ben trovati quanti eccoci goccioline goccioline mie lo sentite sono raffreddata in realtà non ho molto da essere contenta che a parte il lavoro che si quello simile mi rende molto lieta sono delle cose che sono riuscita a sentire che mi destano qualche perplessità ve ne parlo di modo che anche voi possiate dire che cosa ne pensate pare che ci sia stata una live ieri una delle solite buasta cui noi ma manco ci riferiamo perché talmente stupida per le motivazioni per cui non vi dico più che è fatta per raccogliere quattro spicci ma forse per nascondere qualcosa che è stato detto che non doveva essere detto può essere io vi ho detto l'altra volta che c'è una situazione che non mi piace può essere mi avete risposto che no fingono che affatto non c'è nessuno in questo mondo che sta male anzi a questo giochino ci gioca tanto tanto e ne fa parte però avete notato che ad esempio stanno scendo fuori delle cose che non ci saremmo aspettati mai ad esempio che il video sui ladri non è che fosse proprio fatto di così tanta paura anzi c'è stato qualcuno che ha detto che era quasi tutto gonfiato inventato certo poi di fronte alle cose che ha sentito dire da qualcun altro ma che cosa stai dicendo ha dovuto rimangiarsi tutta questa cosa però vabbè fin lì siamo al solite non le solite uno che magari gonfia una cosa oppure magari la vive in un certo modo ma quello che è successo ieri a me ha destato invece un'altra un altro tipo di pensiero perché c'è un pezzo di una live di ieri sera in cui viene detto ma voi per vivere in una casa popolare vado subito al dunque no forse che non vi siete serviti di dell'ex della situazione che l'ex aveva in casa la risposta è curiosa stato uno dei rarissimi momenti in cui veniva data libertà a chi era lì di dire un po quello che voleva quindi non al titolare ma alla signora che dovrebbe dire esclusivamente quello che vogliono gli altri quella di cui vi ho detto state attenti magari in questo punto non stateci più attenti per se vi dovete comportare in questo modo però ha detto una cosa ha detto che dopo aver notato che il suo punteggio era ovviamente alto per aver fatto una richiesta per le case popolari e beh dopo è andata a parlare con una persona con un assessore non mi sto inventando niente potete sentirlo voi non mi va neanche di dire nomi perché l'ha detto la signora stessa e allora mi chiedo allora mettiamola così se io sono un insegnante no io ho il punteggio per essere chiamata perché devo fruire di una conoscenza che ho per andare a dire no no fate presto fate presto perché io ne ho bisogno tra l'altro sta persona ha detto pure questa persona a cui si è rivolta ha dimostrato di essere veramente molto gentile molto preoccupato per le sue esigenze che c'entra con una graduatoria io non credo che le persone che aspettano in graduatoria che venga finalmente il loro momento stiano lì a cercare chi è l'assessore che si occupa di politiche sociali che c'entra che c'entra perché dovrei andarci a parlare se c'è una graduatoria e viene assegnata attraverso la graduatoria perché è semplicemente allora una persona che poi è stato detto a quel punto dunque le persone lavorano perché sono ancora in quella casa la risposta è stata ma no sì certo che loro lavorano anche se voi invidiosi non lo considerate un lavoro e quindi se lavorano come fanno ad avere bisogno di una casa popolare c'è sempre qualche cosa che non funziona c'è qualche cosa che stona e incomincia a stonare tanto tanto perché è una persona che ha comunque un reddito si può permettere di comprarsi tutto quello che vuole deve stare in una casa che è stata assegnata in altri tempi in altre condizioni quando forse il reddito era diverso e perché è stata assegnata ad una persona che è andata da un assessore a chiedere di sollecitare la pratica gli altri no lo so che siamo abituati così che sono i furbetti che vanno avanti no però è strano che la signora dica anche questo nome e poi dica che era contenta perché quest'assessore nonostante non fosse diciamo dei suoi gusti politici ma perché le persone sono brave persone o cattive persone a seconda dei vostri gusti politici di quello che voi pensate non possono essere brave persone oppure ma voi non eravate quelli che i politici fanno tutti schifo pensano soltanto a starsene con il sedere al caldo oppure sempre tutto questo vale fino a quando non siete toccati voi perché la casa popolare voi dite certo ero in graduatoria è vero ma se andiamo a guardare la casa popolare a questo punto no non dovrebbero non dovrebbe essere più assegnata a tutti e tre se fanno parte del nucleo familiare no no se dichiarano regolarmente le tasse e i redditi no dovrebbe essere assegnata soltanto magari ad una persona che ha gli evidenti requisiti quindi ci dovrebbero essere magari delle revisioni siamo sicuri che queste revisioni sono state fatte perché a questo punto no uno ci pensa ci pensa e dice non è che veramente c'è qualcun altro che ne ha bisogno vive fuori all'addiaccio o vive in condizioni miserevoli perché quella casa è abbastanza grande e francamente ci potrebbe stare una famiglia con diversi figli anche italiana o straniera perché c'è stato bisogno di dire subito a questo assessore andarlo a trovare e cercare di fare sbrigare quella pratica perché e si è fatto il nome di quell'assessore per dire che lui sì che era stato bravo anche sempre se non era della stessa fede politica però conveniva lì vero io l'ho detto di stare attenti a quello che si dice perché qui si parla si continua a parlare liste amazon lista di quali sta di là però ci sono delle cose serie e queste cose serie dovrebbero essere ascoltate bisognerebbe pensarci bene prima di far vedere le cose che si comprano certo se uno può perché no non se le debba comprare siamo tutti felici se vi vediamo felici però pensare anche se io dimostro di poter spendere tutti questi soldi ebbe forse il bisogno di una casa popolare io io con mio marito non ce l'ho posso andarmi a prendere una casa in cui abitare con i soldi che ho attraverso quello che guadagno sul tubo mentre se mia madre effettivamente ha bisogno di quella casa io quella casa la lascio a lei ma non una casa così grande un monolocale penso che basterebbe per la signora poi se la signora ha bisogno di un aiuto magari chi percepisce qualcosa per la 104 come si fa in italia un paese in cui si sente dire sempre che ci sono tanti disonesti tanti 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 disonesti però i disonesti sono sempre gli altri sono quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza magari mentre gli altri no non ne hanno di bisogno e allora mi chiedo perché è stato fatto il nome di quell'assessore perché un'altra persona che era in graduatoria non aveva diritto ad avere quella sollecitudine nella pratica che è stata detta con tanta fierezza dalla signora in quella live perché perché no non appartiene a lui lui non c'entra niente quindi giuseppe non c'entra niente con la casa scusatemi giuseppe ha mentito quindi sarebbe interessante sentire che cosa ne pensa giuseppe se questo magari è servito per avere più punti per la graduatoria perché quando si dicono certe cose uno può dire vabbè ma sono affari tuoi no che ti frega e no perché se le cose le dite a quel punto diventano affari di tutti scusatemi bevo io naturalmente domani devo andare a lavorare perché è questo che devo fare però intanto vi lancio questo piccolo ve la lascio questa piccola suggestione pensate un po a ieri a quello che è stato detto e a quello che non si vuole che voi ascoltiate pensate anche alle cose che non si vuole che la signora dica pensate a quello che forse non va bene che si è detto e si cerca di scoprire così improvvisamente perché io dovevo andare a disturbare un assessore se già il mio punteggio era così alto perché facciamocelo un po questa domanda se abbiamo tempo da perdere perché ci sono così tanti motivi per poi viversi la vita senza farsi angosciare da qualcuno che vi viene a parlare ancora 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 delle solite manovre diversive per parlare di altro che è ora di dire basta occupiamoci di cose serie a questo punto se proprio vogliamo fare live basta facciamole su cose che siano serie importanti che stanno venendo tutte a galla e cominciamo a fare su questo qualche domanda e di nuovo richiediamo magari delle cose a cui non si è avuta risposta tipo com'è possibile che una persona vada a guidare un'autoambulanza senza avere senza aver mostrato di avere una parvenza minima di preparazione queste sono le cose importanti non se uno fa la lista se un accattone o non lo è pensiamoci prima di chiamare a cattoni gli altri eh pensiamoci per bene io vi ringrazio tanto 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 per la vostra sempre attenta sollecitudine per tutte le vostre gentilissime osservazioni vi saluto perché oggi ho tanto da lavorare però come vedete un pensiero per voi ce l'ho sempre baci 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 pao